Di questi fotogrammi abbiamo le targhe delle macchine e abbiamo anche le foto, quindi poi il sindaco vedrà. Per quanto riguarda il mercato settimanale dovevamo, va bene, anche di disciplinare la situazione. La scorsa settimana insieme a un vigile e il coordinatore della Montego mi sono recato io presso tutti i mercanti, lì che poi hanno le proprie baracche, è stata data una busta perché giusto come diceva la signora, lì c'è un parco, quando c'è vento se ne vanno dentro il parco e ho provveduto anche alla pulizia di questo perché abbiamo delle borse lavoro e lei se va nel parco, lei non vedrà più busta perché è tutto pulito. L'ho pulito, cioè l'ho fatto pulire personalmente, va bene, mi sono recato io personalmente e l'ho fatto pulire. Vediamo un po', ridisciplinare un po', un po' tutti. Ecco, dobbiamo essere disciplinati e sicuramente ci miglioriamo nel servizio, questo volevo dire.